che facciamo tutti i giorni resistere a del Maira e cercare di conquistare il mondo la situazione è cambiata per Pinkie e la Brasi non c'è un laboratorio, n'è nulla una cueva qualcuno tra su vista, lo perdono di vista pobres di Pinkie e cerebro in ogni città il lavoro, era schlimmer als prima si funziona un'altro, un'altro di spiello potente, lo per favore il lavoro, un'altro di ricolo si è un'altra appara non c'è una ragione si è un'altro si non c'è un lavoro la carina di terra si è un'altro Grazie per la visione!